Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Si rinforza l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo per gran parte del giorno. Il dettaglio di venerdì 26 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata, a partire dai monti, nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, con occasionali precipitazioni, possibili poi fin verso le zone pedemontane, per il resto assenti. Temperature con andamento irregolare, minime tra 13 e 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 28 gradi, all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla zona montana, possibili rovesci, che potrebbero poi interessare localmente anche la pianura. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino, Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino, instabile al pomeriggio, con temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.